Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Clayton Norcross, noto attore americano di Beautiful, si trova attualmente tra i concorrenti del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Finora è stato descritto come pacato ed elegante, ma ieri sera qualcosa è cambiato. Durante la festa in casa, Norcross ha pronunciato parole e gesti discutibili che potrebbero metterlo a rischio squalifica. Durante il party, ispirato alla serie Bridgerton, Clayton Norcross si è lasciato andare a comportamenti controversi. Dopo brindisi e risate, alcuni coinquilini hanno rivelato che l'attore ha usato termini offensivi nei confronti di qualcuno all'interno della casa. Questo ha diviso il web tra chi condanna Norcross e chi giustifica la sua mancanza di padronanza dell'italiano. Ma le controversie non finiscono qui. Durante la festa, Norcross ha compiuto un gesto che ha suscitato scalpore. Ha alzato il braccio destro facendo il saluto fascista. Javier Martinez è intervenuto immediatamente per fermarlo, ma alcuni spettatori chiedono la sua squalifica immediata. È probabile che Norcross, avendo origini straniere, non abbia compreso appieno il significato del gesto. Tuttavia, la rete è implacabile e molti chiedono provvedimenti. Sarà interessante vedere come il Grande Fratello gestirà la situazione. Non ci resta che attendere la prossima.